Dovete parlare, cioè voi dovete parlare, dovete dirci delle cose, sennò non c'è, non c'è di altro. Sì, devi essere al solito, sì ma c'è tutto, se non è in giro, è tutto. Spogliamo un numero di lì. Voi dovetti Liga? Sì, 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 sì. Liga. Questi fanno proprio la... Diteci una cosa, che fate, dove state, dove andate, chi siete, un po' tutto, un po' una discussione tranquilla, la cosa sta proprio, è tra conoscente. Niente, non ci può di niente, non ci può partire. Vieni. 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 Grazie a tutti